Una grande festa, una grande emozione dedicata a tutti i volontari, così come sono volontari tutti questi signori e tutte le bande che domani verranno a trovarci. Sarà un momento di multicolori, di divise, molte divise, tutte per un solo scopo, noi per gli altri, dare qualcosa agli altri in solidarietà, in amicizia e in fratellanza. Domani quindi è una giornata più che altro del volontariato e del volerci bene, ma cominciamo da questa sera apprendendo davvero i nostri amici che sono venuti a trovarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.